Credo, avverte. Gli ideali sfociano spesso nel dogma, il dogma nel fanatismo. Nessuna entità ci giudicherà, nessun essere superiore ci punirà per i nostri peccati. Alla fine, solo noi possiamo difenderci dalle ossessioni. Solo noi possiamo decidere se percorriamo la strada giusta. Ci crediamo vendicatori, profeti, salvatori. Combattiamo contro i nostri nemici e loro combattono noi. Sogniamo di lasciare il nostro segno nel mondo e perdiamo la vita in una guerra che non compare nei libri di storia. Nulla è reale, tutto è lecito. Ciò che siamo, ciò che facciamo inizia e finisce con noi. Sognuno Grazie a tutti. Grazie a tutti.